bene vediamo la tavola 48 che è la prima tavola sulla prospettiva della prospettiva o proiezione centrale ne abbiamo parlato nella scorsa lezione oggi cerchiamo di costruire la prima figura in prospettiva che sarà la prospettiva di un semplice quadrato allora ricordo qual è l'orientamento del foglio che abbiamo già visto la volta scorsa metteremo il foglio in verticale e nella parte alta rappresenteremo la prospettiva quindi il piano della prospettiva nella parte bassa sarà la figura di costruzione quindi il dato del nostro lavoro ci sarà l'oggetto da rappresentare e il quadro che sarà un'unica linea quindi lt e delle o coincideranno invece nel piano di prospettiva ovviamente saranno separati e ci indicheranno la distanza del punto di vista e anche nel sempre nel piano della prospettiva la posizione del punto di vista allora iniziamo ecco e la parte sotto la parte data quindi noi avremo diciamo un quadrato che è messo diciamo così inclinato con un'inclinazione diciamo così casuale non è un'inclinazione precisa e posizionato quindi con l'indicazione del quadro lt e le o quadro sarebbe il piano della prospettiva e l'indicazione del punto di vista allora noi adesso dobbiamo andare a rappresentare nella parte sopra nel piano della prospettiva come si vede questo quadrato in prospettiva abbiamo già detto che una figura regolare in prospettiva non sarà più regolare perché ovviamente essendo una vista simile a quella della vista umana la figura verrà vista in modo deformato e chiaramente gli elementi della figura che sono in primo piano saranno più grandi di quelli in secondo piano quindi automaticamente questo quadrato non si potrà vedere come se fosse un quadrato perfetto abbiamo detto questo si può vedere soltanto nelle proiezioni ortogonali o assonometriche cioè dove i raggi visuali sono paralleli tra di loro allora vediamo un attimo come procedere in modo abbastanza semplice allora ingrandisco la parte sotto eccola qua allora la prima cosa che dobbiamo fare per poter lavorare poi dopo bene è di mettere delle lettere allora metteremo nei vertici del quadrato le lettere maiuscole quindi abcd e nel nelle rette in realtà qui sarebbero dei segmenti però come se fossero delle rette le lettere minuscole allora noi in prospettiva come lavoreremo dovremo andare a rappresentare le singole rette in prospettiva quindi il segmento a che fa parte di una retta che chiameremo sempre a b c e d andremo a rappresentare queste rette in prospettiva e poi dopo chiaramente i punti saranno l'incontro di queste rette allora vi dico già che per poter rappresentare un oggetto in prospettiva e una linea in prospettiva dobbiamo conoscere due punti che intanto vi dico come si chiamano uno si chiamerà punto di fuga di cui abbiamo parlato già la volta scorsa che sta all'altezza dell'orizzonte e uno è il punto di traccia che invece sarà sulla linea di terra la vediamo adesso poi nella pratica come si procede allora ecco qua la prima cosa che dovremo fare è trovare i punti di fuga allora se vi ricordate da quello che abbiamo detto la volta scorsa tutte le rette parallele convergono in un punto di fuga abbiamo fatto l'esempio di quella vasca che stava al centro di una via convergono in un punto di fuga quindi questo vuol dire che tutte le linee parallele hanno un unico punto di fuga allora come si trova questo punto di fuga semplicemente facendo la parallela la retta che ci interessa passante per il punto di vista allora se io devo trovare la fuga del punto del della retta contenente il segmento a che cosa farò prenderò le squadrette metterò la squadretta in concomitanza del punto a e farò una parallela passante per il punto v per il pv e troverò questa fuga chiaramente questo punto di fuga della retta a sarà lo stesso anche della retta c perché avrei dovuto fare la stessa cosa mettere la squadretta sul punto c portare una parallela passante per il pv e il punto sarebbe stato esattamente lo stesso quindi questo sta ad avvalorare quello che abbiamo sempre detto cioè che le rette tutte le rette parallele hanno la stessa fuga quindi se oltre ad a e c ci fossero state altre rette parallele il punto di fuga sempre quello sarebbe stato la stessa cosa la dobbiamo fare per le altre due quindi la retta che contiene il segmento b e la retta che contiene il segmento d mettiamo la squadretta su questa linea facciamo la parallela passante per il pv e troviamo questi due punti questo punto che è il punto di fuga di fb ed fd va bene quindi questo è uno degli esempi se vi ricordate la volta scorsa l'ultimo esempio fotografico avevamo visto c'erano due punti di fuga e questo è il nostro caso abbiamo due punti di fuga quindi in questo modo abbiamo trovato le due fughe necessarie questi due punti questi due punti di fuga nella vista in prospettiva lo vedremo dopo saranno sulla linea dell'orizzonte le linee di traccia invece che adesso troviamo saranno sulla linea di terra vediamo come si trovano le tracce adesso qui ecco per procedere per distinguere le fughe dalle tracce ho usato due colori differenti quindi la fuga ha usato questo colore magenta per le tracce userò il colore verde vediamo la traccia eccolo qui come si ottengono le tracce semplicemente prolungando i vari segmenti questo caso le tracce saranno quattro segmenti quattro tracce cioè il segmento d io lo vado a prolungare fino alla linea di terra e troverò la traccia di d il segmento b lo prolungherò fino alla linea di terra e troverò il la traccia di b la stessa cosa per a e la stessa cosa per c quindi ci troveremo in questa situazione per ogni retta avremo un punto di fuga e un punto di traccia ok la cosa che abbiamo già detto è che tutte le rette parallele hanno un punto di fuga coincidente le tracce ognuno invece avrà la sua va bene a questo punto che cosa facciamo incominciamo a vedere che succede nel piano sopra adesso capite pure perché vi ho fatto mettere queste due figure una sopra l'altra e allineate allora abbiamo detto che le fughe stanno sono sulla linea dell'orizzonte quindi che cosa farò farà una con la squadretta a parallelo anche alla squadra dura fa ed fc le andrò a portare sulla linea dell'orizzonte e la stessa cosa per fb ed fd bene questo è la prima operazione che dobbiamo fare la seconda operazione che faremo è con le tracce ecco qua con le con le tracce faremo la stessa cosa solo che le tracce abbiamo detto sono sulla linea di terra quindi td tb t a e tc le andiamo a portare sempre parallele alla squadra dura o parallele a alle linee di fuga che abbiamo visto prima nella linea di terra a questo punto se ci fate caso per ogni segmento di ogni retta abbiamo una traccia e una fuga quindi che cosa dovremmo fare né più né meno che andarle ad unire cioè se io voglio trovare la traccia della linea d della retta d unirò la traccia di d con la fuga di d queste due e adesso lo vediamo eccolo qua quindi unendo la traccia di d con la fuga di d otteniamo la retta d in prospettiva va bene e ho messo la lettera per poter poi orientarci bene adesso dobbiamo fare né più né meno che la stessa cosa per le altre per cui la stessa cosa la facciamo per b uniamo la traccia di b con la fuga di b che è la stessa di d perché sono parallele tra di loro e ugualmente uniremo la traccia di c con la fuga di c la traccia di a con la fuga di a anche queste la fuga è identica perché queste due rette sono parallele tra di loro vedete che qui abbiamo diciamo così una sorta di quadrato in prospettiva ecco che lo ripasseremo con la mina f e questo sarà il nostro quadrato in prospettiva concluderemo il disegno mettendo le lettere quindi chiaramente il punto di intersezione tra d e a come nella vista sotto sarà il punto a e così via in questo modo andremo a determinare tutti i punti a b c d che avevamo nella figura iniziale in questo modo abbiamo visto come il nostro quadrato viene reso in prospettiva adesso possiamo fare anche qualche considerazione vedete che l'altezza tra la linea di t la linea di terra la linea dell'orizzonte è l'altezza dell'osservatore è chiaro che più questa altezza sarà grande e più la figura la vedrò dall'alto chiaramente più questa questa distanza tra le t lo sarà piccola e più la figura sarà schiacciata adesso noi qui abbiamo messo un esercizio di esempio per cui abbiamo messo una dimensione standard adesso quando voi rifarete questa tavola ecco potete utilizzare delle misure a piacere tranquillamente delle misure a piacere e quindi non vi do altre dimensioni ecco questo considerate che questa è la grandezza del vostro foglio dovete cercare di mantenere queste proporzioni anche nell'inclinazione della della figura considerando che ci sono delle parallele da fare dobbiamo mantenere una cosa tipo questa chiaro che se noi questa figura la storciamo un pochino di più c'è il rischio che poi dopo le parallele ci vanno a finire fuori del foglio quindi ecco dobbiamo cercare di mantenere questo quindi in questo caso non vi do delle misure ben precise ma vi do diciamo così l'indicazione di come farla fatelo con delle misure a piacere ecco questa è la tavola finale come dovrà essere togliendo i colori quindi con la mina 2h diciamo facciamo tutti quanti tutte quante le linee di costruzione con la mina f dobbiamo fare esclusivamente i due quadrati sia nella vista del piano della pianta che la figura reale sia nella vista del piano in prospettiva